Il Consiglio regionale ha le prese con la distribuzione degli incarichi negli enti, primo caldo e primi incendi in Sardegna, in Viale Indipendenza, case terminate ma non ancora consegnate, nuovi campi da tennis a Torre Grande. Benvenuti, in Sardegna sono stati rilevati 8 nuovi casi di Covid-19 e oggi 2 nella provincia di Sassari, 4 nella città metropolitana di Cagliari e 2 rispettivamente nelle province di Nuoro e del Sud Sardegna. Sono stati eseguiti 2.231 test, non si registrano nuovi decessi, i guariti di oggi sono 45. Parliamo ancora di Covid perché il Green Pass è ufficialmente operativo, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il nuovo decreto che stabilisce come ottenere la certificazione verde. Sentiamo nel servizio. Sarà valido in tutti i paesi dell'Unione Europea e verrà rilasciato a chi è stato vaccinato, a chi è risultato negativo a un test per il Covid-19 e a chi è guarito dall'infezione. Il cosiddetto Green Pass è diventato realtà. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha infatti firmato il decreto che definisce le modalità di rilascio delle certificazioni verdi digitali Covid-19 che faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici, l'accesso alle strutture sanitarie assistenziali e gli spostamenti sul territorio nazionale. Con la firma del DPCM si realizzeranno le condizioni per l'operatività del regolamento sul Green Pass che a partire dal prossimo primo luglio garantirà la piena operabilità delle certificazioni digitali di tutti i paesi dell'Unione. In alternativa alla versione digitale i documenti potranno essere richiesti al proprio medico di famiglia, al pediatra o in farmacia utilizzando la propria tessera sanitaria. Cambiamo argomento. Il Consiglio regionale tra qualche giorno sarà alle prese con un nuovo argomento, la designazione degli incarichi negli enti strumentali e a questo proposito si profila un nuovo scontro tra maggioranza e opposizione. Sentiamo. Consiglio regionale in agitazione e previsioni di un nuovo scontro istituzionale tra maggioranza e opposizione quando si tratterà di affrontare l'argomento. A dividere l'Assemblea saranno quasi certamente le nomine ai vertici degli enti strumentali in capo alla Regione, una decina per i quali la ricomposizione dei consigli di amministrazione con cinque figure per ciascuno da nominare, i collegi sindacali, i direttori generali e i comitati di esperti. Una pletora demografica che impressione e che si aggiunge alle cento figure previste nel nuovo staff del Presidente della Giunta. Fatta la somma dovrebbe trattarsi di un nuovo corpo destinato a imprimere, lo si spera, una accelerazione quantitativa e qualitativa alla macchina burocratica della Regione che su più fronti sconta ritardi impressionanti. Al rinnovo devono andare Area per l'edilizia popolare, Forestas, Aspal, Agenzia per il lavoro, l'Arst per il trasporto pubblico, l'Enas, l'ente di governo delle acque e ancora la Ore, Agris e Argea con l'Istituto Etnografico di Nuoro. Questi organismi fanno tutti capo alla Giunta regionale e quindi la rappresentanza avverrà a livello dell'attuale maggioranza e a questo punto l'insorgere di problemi che non mancheranno. È iniziato il gran caldo in Sardegna e come spesso accade, purtroppo iniziano anche gli incendi. Sentiamo. Ogni anno stesso problema, complici il vento e le alte temperature. Questa e le prossime saranno giornate all'insegna del gran caldo e dunque torna alta la paura per gli incendi, roghi che in questi giorni stanno interessando la nostra provincia. Prese di mira le campagne di Cavras, di Nuracchi, di Simagis e Ollastra, roghi che hanno richiesto l'intervento di mezzi aerei. A Nuracchi le fiamme hanno aggredito totalmente la campagna in località Palasca, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del corpo forestale di Fenusu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla stazione di Oristano. Fiamme anche nelle campagne di Bosa. Anche in questo caso è stato fondamentale l'intervento di un mezzo aereo. Scadono il 19 luglio 2021 i termini previsti per la presentazione delle domande di concessione in uso degli impianti sportivi, palestre, campi e piste esterne delle scuole superiori di proprietà o nella disponibilità della provincia per la stagione 2021-2022. Possono essere concessionari delle strutture, le società o i gruppi regolarmente costituiti e affiliati al CONI, le associazioni benemerite che svolgono la propria attività con finalità sportive, culturali e di volontariato sociale. L'avviso con la modulistica è in pubblicazione nel sito della provincia di Oristano www.provincia.or.it. In via d'indipendenza a Oristano le nuove case dell'area sono terminate da tempo. Nonostante la graduatoria per l'assegnazione sia ormai pronta, gli appartamenti non possono essere ancora consegnati alle oltre 40 famiglie aventi diritto. Sembrerebbe per la mancanza di una cabina elettrica. Sentiamo. Sembra un luogo e una terra di nessuno il complesso di residenze realizzato in via d'indipendenza al posto delle fattiscenti palazzine datate anni 50. A costruire il nuovo impianto urbano avente un carattere residenziale, l'Agenzia regionale per l'edilizia abitativa che ad Oristano ha la sua sede in via Tempio, mentre il Comune ha da tempo concluso le operazioni di assegnazione degli alloggi agli aventi diritto. Ma da mesi in via d'indipendenza tutto immutato, con la recinzione originaria del cantiere idile a pezzi, è ancora lì a delimitare l'accesso a piazzali e appartamenti. Sul problema, stante le attese delle famiglie interessate, ci si è tornati più volte con servizi che hanno coinvolto anche altre testate giornalistiche, insieme a denunciare gli inammissibili ritardi che impediscono ai nuovi locatari l'accesso agli alloggi assegnati. Questo perché tra Enel e Comune non è stato trovato l'accordo per realizzare la cabina elettrica al servizio di questo nuovo complesso abitativo, dando corpo ad un ennesimo esempio di mala burocrazia. Il servizio pubblica istruzione del Comune di Oristano ha messo in pagamento le borse di studio regionali per l'anno scolastico 2019-2020. L'assessore alla pubblica istruzione Massimiliano Sanna ricorda ai beneficiali che per la riscossione della borsa tramite quietanza diretta devono presentarsi in un'agenzia qualsiasi del Banco di Sardegna muniti di un documento di identità in corso di validità. L'Arcivescovo di Oristano, Monsignor Roberto Carboni, ha rivolto un messaggio di saluto ai turisti presenti sul territorio in una stagione estiva segnata dall'emergenza sanitaria. Speriamo ormai quasi alla fine. Siamo letti di accogliervi dopo un anno difficile per tutti e segnato dalle limitazioni che ben conosciamo. Il nostro desiderio è di aiutarvi a trascorrere i giorni della vostra vacanza a contatto con la natura, la ricchezza della nostra storia. Inizia così il messaggio scritto dall'Arcivescovo di Oristano, Monsignor Roberto Carboni, rivolto sia ai turisti che ai pellegrini, pronti a visitare, conosce l'oristanese. Sebbene non sia ancora possibile darci una stretta di mano per esprimere la gioia di avervi tra noi, faremo comunque di tutto per farvi sperimentare relazioni autentiche e durature. E se negli anni scorsi era prepotente il desiderio di immergersi nei paesaggi incontaminati, gustando la solitudine, ora invece avvertiamo ancora di più la forte esigenza del contatto, dell'esperienza, della prossimità con la vinta semplice della gente. Continua il messaggio. La comunità ecclesiale della Diocese di Oristano desidera aprirvi le porte delle chiese per il servizio domenicale della celebrazione dell'Eucarestia e del sacramento della riconciliazione. Là dove sarà possibile le chiese rimarranno aperte per la preghiera, un momento di riflessione, di raccoglimento e gratitudine. Vi sarà di arricchimento spirituale e culturale visitare le comunità e le belle chiese parrucchie di Norbello e San Veromilis, così da conoscere le figure dei servi di Dio, Monsignor Giovanni Soggiu e Fra Nicolò, e poi quelle di Gesturi e Laconi, patria rispettivamente del Beato Fra Nicola e di Sant'Ignazio. Voltiamo ancora a pagina. Il comune di Oristano interverrà nell'impianto da tennis di Torre Grande, realizzando un campo in superficie sintetica e uno in terra battuta. Vediamo. Nuovi interventi nell'impianto da tennis di Torre Grande. Saranno realizzati due campi, il primo in superficie sintetica e il secondo in terra battuta. Lo hanno comunicato il sindaco Andrea Luzzo e l'assessore Maria Bonaria Zeda, evidenziando la decisione assunta a un'animità dalla Giunta Comunale. La decisione di realizzare i due nuovi campi risponde alla necessità di garantire l'accreditamento del tennis club alle competizioni internazionali con cinque campi della medesima tipologia e a consentire agli allievi della scuola e alla squadra agonistica di potersi preparare e misurare su un terreno di gioco in terra battuta, che è tra i più diffusi in Italia, hanno aggiunto il sindaco Luzzo e l'assessore Zeda. Il comune dispone di 45 mila euro di economie derivanti dall'appalto, ma ne servono altri 50 mila circa per il campo in terra battuta, da cui la decisione di reperire le risorse necessarie e procedere successivamente, contestualmente, alla realizzazione dei due campi. L'ASL di Oristano deve affidare un incarico provvisorio di assistenza primaria a partire dal 28 giugno per un periodo di 12 mesi o comunque fino all'individuazione del medico titolare per l'ambito territoriale numero 1,4 del distretto sociosanitario di Oristano con obbligo di apertura dell'ambulatorio nei comuni di Siamaggiore, Solarussa e Samugheo. I medici interessati in possesso dei requisiti previsti dall'accordo collettivo nazionale dovranno presentare domanda di disponibilità entro e non oltre le 14 del 21 giugno 2021, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica dell'ASL di Oristano. Ed ora ci spostiamo in margine planargia e perché anche qui c'è una rivolta contro le autorità sanitarie. Sentiamo Pier Gavino Vacca. Con l'allentarsi dell'emergenza per la pandemia, almeno così si spera, sono venute a galla le mancavolezze del sistema sanitario e la sua evidente incapacità di previsione. Sorgano un po' dappertutto come i tatti o si fanno consigli comunali con l'imputato maggiore che è il sistema sanitario. Così a Bosa, a Macommerghi, l'Arsa, per non parlare di Oristano. A Bosa, in una recente riunione degli amministratori della Planargia, è venuta fuori l'eterna richiesta della sicurezza della permanenza dell'ospedale, soprattutto come struttura in zona disagiata. Intanto l'ospedale riprende lentamente la sua funzione ordinaria. Fino al 4 luglio il riparto di medicina, finora adibito all'unità Covid, tornerà alla sua antica funzione, previa una sanificazione. Poi toccherà a chirurgia che riaprirà prima per interventi in dei hospital e poi con interventi non troppo gravi e brevi permanenze in ospedale. Prima di chirurgia però dovrebbe essere reso autonomo il pronto soccorso con il personale necessario. Tutto questo è stato promesso nella visita che un paio di giorni dopo il commissario straordinario dell'ATS Massimo Trimussi ha fatto all'ospedale. Chi vivrà vedrà. L'ospedale a parte non mancano i problemi in logopedia, fisiatria e pediatria. Sebbosa piange ma com'è non ride. Quasi contemporaneamente si è formato un comitato spontaneo del Margine in cui il coordinamento è stato affidato all'ex sindaco di Silanuscheconieddu. Anche nel Margine la situazione non è delle migliori. La furba decisione di chiudere a suo tempo le iscrizioni alla facoltà di medicina ha dato i suoi frutti. Siccome il tempo passa e anche i medici invecchiano e vanno in pensione ora da molte parti manca il medico di base e non si sa come fare. A questo si aggiunge il reclutamento in ritardo ed ora 1.200 cittadini sono senza medico di base. I problemi però non sono solo questi. Nel poliambulatorio e il centro di arisi funziona bene ma questo è possibile grazie all'abnegazione dell'unico medico che vi lavora ed avrebbe bisogno di un collega. Il laboratorio di analisi è interessato anch'esso ad un ricambio vista la collocazione in pensione dei due professionisti. Inutile ricordare poi i disguidi durante le vaccinazioni. Non molto lontano a Ghilarza un comitato sul piede di guerra in difesa dell'ospedale e la riapertura del pronto soccorso. Sempre in questi giorni un pesante attacco è venuto da parte dei sindacati CGL, Cisle e Uille in difesa degli ospedali di Oristano e Bosa. I sindacati accusano la regione di aver solo aumentato i posti di potere, aggravando il costo per i cittadini, con gli ospedali di Bosa e Oristano svuotati e una mancata capacità di programmazione. Domenica 20 giugno dalle 11 alle 13 il lungomare di Torregrande ospiterà il raduno Jaguar Enthusiastas Club Italia. L'iniziativa è del Jaguar Club ufficiale, più importante del mondo, con il patrocinio degli assessorati al turismo, alle attività produttive e allo sport del comune di Oristano. IEC oggi, presente e attivo anche in Italia, raduna i possessori appassionati del noto marchio inglese, senza distinzione alcuna di anno di matricolazione per anno di matricolazione o tipologia di vettura. L'appuntamento di Torregrande è parte di un fine settimana che il club del Jaguar organizza nel centro Sardegna, con l'intento di essere raggiungibile da tutta la regione e agevolare la partecipazione a tutti gli appassionati. Nel weekend, dopo il raduno di sabato al Nuraghelosa, la comitiva dei jaguaristi si trasferirà a Fordongianus, mentre domenica gli appuntamenti sono alle 10 a Cabras, in Piazza Stagno e alle 11 a Torregrande. Riprendono le iniziative culturali promosse dal Museo Civico di Cabras, con un ciclo di incontri estivi in presenza, dedicati all'archeologia e alla storia dell'arte. Quest'anno una parte delle iniziative verrà ospitata in siti e monumenti significativi del nostro territorio che diverranno sede e protagonisti dell'offerta culturale. Abbiamo pensato che questo è il modo migliore per far conoscere la nostra storia e offrire al pubblico occasioni di aggregazione e condivisione in luoghi significativi, si legge in una nota del Comune di Cabras. Il primo incontro, fissato per domenica 20 giugno alle ore 21, si svolgerà nella chiesa della Beata Vergine Maria Assunta di Cabras. La professoressa Alessandra Pasolini parlerà sul tema tra arte e devozione, la chiesa parrocchiale di Cabras e i suoi arredi. Il cinema Ariston riaprirà le sale dal 24 giugno, ma nei giorni 21, 22 e 23, poi ancora il 29 giugno e il 6 luglio, propone una rassegna di film realizzati in Sardegna in collaborazione con il Centro Servizi Culturali UNLA, Band Apart e Nuovo Cine Club oristanese. Le prime 5 serate saranno tra giugno e luglio, a settembre seguiranno altre 3 serate, l'ingresso è libero sino ad esaurimento posti. Era l'ultima notizia del nostro appuntamento con informazione, io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio ora con le notizie nazionali. Grazie. 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 Grazie.